indipendenza grandi spazi una casa ideale per una famiglia numerosa o per te che fai il professionista e desideri fare casa e bottega una cucina generosa nella quale potrai passare dei piacevoli momenti insieme ai tuoi amici e alla tua famiglia una cucina in grado di ospitare molte persone ma soprattutto dotata di tutto quello che serve una cucina baciata dal sole dal mattino fino al pomeriggio nottato e dopo la cucina ti accompagno nel salotto della casa e come puoi notare è molto spazioso come la cucina e ti permette addirittura di poter godere di un divano e di due poltroni oltre un'ampia libreria e la zona del muro qui ci troviamo nel primo disimpegno della casa che serve una camera usufruibile anche come studio ed il suo bagno e tramite questa porta si accede a un altro disimpegno che porta alla camera da letto numero 1 alla camera da letto numero 2 ad un ampio bagno dal disimpegno possiamo accedere alla comoda scala che serve il piano seminterrato dall'ingresso abbiamo la scala che serve il piano superiore l'ampio man saldato ti permetterà di riferire dei locali nel modo che riterrai più opportuno tra l'altro un man saldato dotato di finestre e se dico luce e finestre puoi fare questo bagno di sole grazie a tutti grazie a tutti